ciao a tutti ragazzi e ragazzi eccoci tornati in questo nuovo video siamo appena usciti dal supermercato e le siamo rossato anche la visita al dentista e ha finito per fortuna per momento un peso in meno sicuramente come potete vedere dietro di me la macchina non è ancora a posto oggi è il 28 di novembre ma domani dovrebbe essere il giorno che la macchina vada a posto quindi in questo video non vedrete la macchina a posto ma nel video della regione in fiera teoricamente sì perché l'incidente è successo l'otto di novembre 20 giorni ma siamo qui per un nuovo video mi sono dimenticato che non può parlare vuota la spesa quindi ci vediamo a casa eccoci arrivati a casa e quindi il momento rapidamente perché sono già le sette e mezza dimostrare il viso che abbiamo preso spesa molto molto grande partiamo da tre confezioni di cibo per cani ciao minu ciao 6 confezione di latte granalo granarolo bontà leggera ma se è pesante lo proveremo loro sempre buoni i rasci di salmone due confezioni crespelle al prosciutto fatte da lipe al queste sono davvero buone come un po tutti i cibi pronti di questo supermercato beh poi è chiaro non si può mangiare sempre roba pronta perché poi fa male al corpo sì è una vita che non mangio il riso allo zafferano e ho preso il sugo salmone islandese confezione di 250 grammi puoi essere sincero io non ho mai provato la pizza salsiccia e frie a rielli neanche quando siamo andati a pizza round la messiccia era arrivata ma l'avevo rifiutata e così sono curioso di provarla vabbè questa che ve lo dico a fa l'abbiamo provata all'eolandia super e poi tal pizza salsiccia e patate e anche qui sempre un'offerta come la maggior parte dei prodotti che prendiamo qui a libera dei biscotti con luscio formato da un chilo passione di kinder surprise da tre con le disney princess e di formaggi cacciò temetal bavarese ed amer marca di pasta pronta mamma e mamma emma gnocchi con zucca dovrebbero essere buoni casuncelli con carne e verdure e ravioli con brasato ritorno a mamma emma con il pesto fresco la genovese senza aglio senza di queste chiara non vive erano in offerta a 3,99 euro quindi ne ho prese quattro scatole praticamente ho finito tutto lo scaffale che era vuoto parto dalla panna ho trovato questi budini a protecici qua al cioccolato e qui al cioccolato bianco quindi te lo prendo che magari non potrebbe piacere a chiare il tema e vabbè ragazzi ci può stare ci può stare l'integrale per la signorina ma senza lattosio confezione di kinder bueno e restando in tema kinder paradiso ti vanno bene queste merendine alessandro sì perché ti vanno bene perché sono cioccolato ma dai lo sapevamo sei uova lattuga pomodori prima quando quando arrivavi in macchina eri in allumaca figlio un bradito stai zitto ogni volta che ho aspettato a te due ore smettila ma cosa devi correre devi dimagrire allora lui che dice sai veloce ragazzi ha rotto un uovo cinco di suino cotto e regli immancabili cos'è da obiettare ma questi qua fanno schifo non sono buoni questi sono più buoni ma che tu li assaggi assaggialo dopo lo assaggi vediamo perché al corner costano 4 euro lì però vengono in offerta a meno di 3 euro e quindi bianca senza semi tra l'altro era l'ultima uova rimasta era questa grande e che è colpa mia se non trovo l'uova è che è certo che fra tutte e due non so chi è più fuso e ti ho detto in dialetto che com'è che hai detto ho detto questo stafora a dire la verità adesso siamo in casa proseguiamo con i crackers che ero un po che non li prendevo cesto di di clementini da due chili riso integrale finalmente ho trovato una bella confezione lì si vede la terra di minù altra confezione di kirashi di salmone per alessandro e per me domani al lavoro lasagne e zucchine provola li ho volute provare giusto per cambiare per non prendere sempre lasagna alla regola volumese e la grande novità sai che bon noodles al curry però detto ma tu non li mangi ma infatti sono per te e ritorniamo al kinder fetta al latte confezione da dietri da 10 anche questa in offerta parlo troppo veloce e gira e rigira prima o poi l'avrei dovuta prendere alla nutella vegana vediamo per me non cambierà niente però proveremo assaggiarlo blocco di cioccolato extra fondente da 400 grammi 3 confezioni di cialde di chiara il caciocco snack sembra tipo kinder ping wiki in realtà al latte più o meno kiwi e noi abbiamo terminato il video quindi come al solito lasciato un like e iscrivetevi al canale se vi fa piacere seguirci e 3 kg e mezzo ragazzi nel giro di un mese quindi da 73 sei passata a 66 e 8 quindi no anche 66 e 4 quindi è in ascesa prende sta continuando a scendere quindi direi che in questo video potete fare complimenti a chiara sotto nei commenti mi raccomando di non dimenticarvi così almeno lei si caso un po e noi ci vediamo in un prossimo video ciao